Xylella fastidiosa e olivo è stato questo il tema di un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza, nato con l'intento di sensibilizzare e scongiurare il flaggello Xylella, un batterio nocivo che potrebbe colpire anche l'olivicoltura della Calabria, seconda regione italiana per la produzione di olio. La Camera affronta un altro problema delle imprese a livello nazionale e internazionale, questa è la grande nostra soddisfazione. Dopo il commercio e il turismo, dopo gli artigiani, l'agricoltura sostiene la Camera di Commercio, quindi quelle dritte annuali sono quelle imprese del mondo agricolo. La Camera oggi sta affrontando un tema molto, ma molto importante, molto sentito, ma ne vale per la nostra economia, perché ricordo che il discorso dell'olivo nei nostri territori è qualcosa che incide sulla nostra economia pesantemente, non soltanto nel prodotto in sé stesso, ma anche su un discorso culturale, su un discorso del turismo, su un discorso del territorio, su un discorso dell'ambiente, su un discorso della bellezza naturale. Il batterio Xylella fastidiosa dal 2013 è presente nella Puglia meridionale e sta provocando il dissecamento precoce in moltissimi uliveti, con gravi ripercussioni sull'economia agricola del territorio. È un organismo da quarantena che in quanto tale non era presente in Europa e si è affacciato dalle nostre parti alcuni anni fa e ahimè in una situazione particolarmente favorevole al batterio stesso, sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista dell'epidemiologia, ossia dalla popolazione degli insetti vettori presenti in maniera abbondante sul territorio stesso, sia per la presenza di una specie vegetale, l'olivo, particolarmente suscettibile al ceppo batterico che è capitato dalle nostre parti, questo cocktail esplosivo sta portando alla manifestazione sul campo di questa situazione per l'appunto emergenziale. La Calabria ha le caratteristiche climatiche anche essa ideali per quanto riguarda lo sviluppo di questo batterio e pertanto credo sia proprio d'obbligo tenere massima l'allerta per cercare di prevenire quando è più possibile l'introduzione del batterio in Calabria.